Allora, Cozzolino non riesce a votare e neanche Caso, Frusone, anche Di Gioia ancora non riesce a votare. Allora, vediamo un po' se c'è un tecnico. Ha votato, ha votato. Bene, allora ci siamo tutti. La votazione è chiusa. Favorevoli 118, contrari 357, la Camera respinge. Adesso siamo all'articolo 1, che metto in votazione. La votazione è aperta. Ciprini, D'Ambrosio, Palma. Va bene? Hanno votato tutti? Sì. La votazione è chiusa. Favorevoli 304, contrari 174, la Camera approva. Allora, l'articolo 2 non ha emendamenti, quindi lo metto in votazione. Dichiaro aperta la votazione. Cominardi. Rabino. Allora, Malisani. Chi altro? Ci siamo? Tutti hanno votato. La votazione è chiusa. Favorevoli 299, contrari 169, la Camera approva. Allora, adesso siamo all'articolo 4, ho bisogno dei pareri, quindi chiederei al relatore... ...